Come stai? Stai bene? Sto bellissima, dita, dita. Avete stata a Montesilvia? Sì, siamo stati a Ponte Milvio. Però è stata un po' una delusione. Sì, perché i lucchetti non si attaccano più a Lampione. No, 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 ad un spallo che hanno messo lì apposta per stavare a guardare Lampione. Beh, Flora, ma l'importante è che abbiamo gettato la chiave nel piede. Ma a me se vuoi una fesseria andare fino a Roma per attaccare un lucchetto a un palo e poi gettare le chiavi nel piede. Però, Petito, tu sei ancora piccola e non capisci le cose dell'amore. Quanto ti fai granto, ancora devi crescere. E allora capirai, avrai la tua boifrenta e capirai. Signorina Erminia, voi lo capite perché siete innamorata, vero? Certamente, io sono molto molto innamorata del mio palomillo. Ma sì, certamente. Eh, ditta, 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 cosa avete fatto in treno? Eh, zia, che dovevamo fare? Abbiamo parlato. Ah, era fuori il treno? No, eravamo soli nello scompartimento. No, eravate soli? Sì. E abbiate solo parlato? Sì. Allora, ma voi stiviamo solo i due scompartimenti, ne abbiamo dato un po'. Ma signorina Erminia, noi ci vogliamo bene. Ah, punto. Ma come ci vogliamo bene e ci dobbiamo accoppare? Certamente. Ma perché ma dovremmo ammazzarci? Ma chi ha detto ammazzarci? Ma che porra, se ne puoi fare un fruggo di frango? Un fruggo di frango? Ma io non capisco. Ma mamma mia, tua madre non ti ha detto niente. Ma frango è un piacere, in genere tu come si fai? Mi, e dai, non li mettere in imbarazzo. Flora, Dermina parlava di accoppiarsi, di fare l'amore. Ah, era questo? Ma no, signor Erminia, e il treno poi? Eh, dai, zia, non essere indiscreta. Eh, va bene. Paolo mio, io adesso vado di lonti. Domeni che vado a fare? Ma faccio una doccia? No, la doccia già mangi fatta prima. Andate a doccia mangi a fare. Mi faccio un rintocco. Ah, un rintocco e un bel rinfresco. Tutto è duro, tutto è duro, rintocco e rinfresco, rinfresco e rintocco. E vengo, va? Vengo a sapere. Ma come stiano sul tuo compartimento, se no, si spoglie. Quella dovete scusare, quella germina è un po' esuberante, ogni tanto così. Lo sappiamo, sappiamo, non si preoccupi. Ma non è che si sa per caso dov'è mio zio Cristoforo, dovevo chiedergli una cosa. Sì, ha detto che andava in giardino, non so, a meditare. Vabbè, Flora, vieni con me. Permettete, andiamo a copiarci questi esercizi. Secondo me che lui Cristoforo non mi ha condiuso, poi scuri qualcosa, però no, già stanno poco accolte. Sì. Hai capito il milanese, eh? Devo correre subito a dirlazio a Cristoforo. Ma che combina Cristoforo? Non ci ha fatto sapere più niente. Chissà se sono venuti per lecchie. Secondo me qua finisce, ma io lo sapevo che non dovevo darti retta. Qua finiamo in prigione. E tu lo sai che io soffro di claustrofobia. Fa finire che mi chiudono in un manicocchio. È tutto per colpa tua. Ludovico? Sì, dimmi, caro. Che devi fare? Che devo fare? Beh, ma già stasetti. Bravi, hai capito? E allora ragazzi, siamo d'accordo, appena mi servite io vi mando a chiamare. Allora appena ti serviamo ci mandi a chiamare. Venite subito. Sì, sì, ma adesso andiamo di là. Io nel frattempo comincio a copiare gli esercizi di matematica. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ecco qua. Proprio a voi cercavo, eh? Ho trovato la soluzione al vostro problema. Ammazzi bella e cia... Chissà a te da messo la cina, restate zitta e falla parlare. I ladri hanno svaliggiato casa vostra. Oh mamma mia, e solo questo ci mancava. Ora sì che siamo rovinati. E io lo sapevo. Lo sapevo perché quelli qua non vengono mai da soli, no? No, sono come le ciliegie. Uno tira l'altro, uno tira l'altro. E no, ma come la polizia non arriva da tuo appartamento? E già, e quella la polizia sprecava ai più uomini per due fessi come noi. Cristo, Cristo, è che si sono presi. I titoli di Alfonso. Oh mamma mia, questa signora trascente, ma come faccio? Ma Cristo, non è possibile. Io i titoli ce l'ho io. Bravo stesso. Hai visto tua moglie come ha capito subito? Ma che ha capito, non ci ha capito niente. E se invece di parlare sempre, ascoltassi un poco di più, forse qualcosa capiresti. Forse, eh? Ma. Ascoltami attentamente senza interrompermi. Adesso voi andate alla caffetteria di fronte e andate a fare una bella colazione. E paga il conto, non lasciare niente in sospeso. Io nel frattempo chiamo i Pellecchia. Vi dico che voi siete tornati a Napoli e siete pronti a restituirgli i titoli. Ma allora glieli dobbiamo dare. Ma allora non ne hai capito niente. Stato zitta. Ah, cara, certo, cara. Quando voi li vedete arrivare fate passare tre minuti e poi dopo salite. E che facciate? Vi vengo ad aprire. Voi entrate tutti trafelati, tutti agitati. Vi strappate i capelli. Scusi. No, 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 no. Mi tenete un po' che è difficile. Vi mostrate molto agitate e dite che siete tornati a casa per pigliare i titoli di Alfonso che nel frattempo avevate messo in cassaforte. e avete trovato la casa completamente aperta. Tutta la roba sotto sopra i ladri erano stati là e avevano svuotato tutto. Ah, ma faccio capire, sei un genio. Oh, che miracolo. Bimbi, dite pronti a riparare, dite come facciamo adesso un investigatore privato. Un investigatore privato lo assoldiamo per recuperare i titoli, facciamo tutto il possibile. Insomma siete pronti a risarcire. Tu pensi che ci credano? E chi lo può dire? Intanto questa è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento. Poi dipende da voi. Dovete essere convincenti. Sì, sì, sì. Allora Ludovico non deve dire nemmeno una parola. Bravo. Altrimenti siamo rovinati. No, no, no. Secondo me quelli non ci credono e noi ci diamo in galera. Ma come ha già fatto? Scusate, stata zitta. Adesso andate. Sì, sì, ce ne andiamo. Andate a fare colazione. Andate. Senti, Cristoforo, ma se quelli non ci credono, noi che cosa faremo? Gli restituiremo i diritti? Eh! Ci dobbiamo comportare. Chi lo può dire? Poi troveremo, poi cercheremo, troveremo un'altra soluzione. Adesso andate. 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 Andate a fare l'ultimo passo. E' l'ultimo passo. Sì, l'ultima passo. E' il bambino curvo corrente. E' pava. Pava. Pronto? Umberto? Sì, sono io. Sì, sì, sì. E' certo. Sì, sono appena arrivati a Napoli. Stanno andando a casa. Sì, a casa. A ritirare i titoli. Certo. Certo. Sì, no. Li portano qua. E' vabbè, ma con ca... No, vabbè, vuoi venire subito? E' d'accordo, venite subito. Vabbè. Ok, ciao. E che Dio me la mandi buona. Eccola qua. Che cosa? Sono qua per te. Prego. Sarò il tuo sonno, Grissi. Non vieni qua. Ma chi? Grissi, mi sono da una roba con te. Sono un ladriscano, no, no. Che stu ragazzo è troppo tinta. No, ma prima o poi ho sbaglio, no, no, mamma mia. Vabbè, vabbè, fammi andare dal mio palomielo. Ma già quando andiamo dal mio palomielo che sta facendo l'attentata. Sia, stai qua? Sì, ma stavo andando dal palomielo perché mi ha attentato. Ma dai, ma dai. Parliamo un poco. Siediti con me, dai. Cinque minuto? Cinque minuto. Ti dà? Cinque minuto. Eh, va bene. Allora, raccontami. Finalmente hai trovato la persona che ti ha rubato il cuore. Dice, lì, se il mio cuore se l'è rubato tanto tempo fa, Cristoforo. Hai capito? Ma chi le pensa solo alla figlia Sofì? Ma Cristoforo non ha figlie. Quale figlia è sua figlia? Hai capito? La figliofosia. Ah, la filosofia. E che la cosa? E quindi io pur se lo ame e quello non vuole sposarsi, allora che dovevo fare? Mi ho trovato un po' freddo. E come l'hai conosciuto? Ah, quello è stato l'indestino. Che cosa? Ti faceva male a mano? Oh signore, l'indestino è quella cosa che tu pur se non vuoi che succede, succede. Un sabato mattina mi ero regata al bancomat per prelevare i soldi e c'era la fila. Ah, 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 che è stato? Ti senti male da me, non ha trovato subito. Ma guarda, 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 perché stai brigando breve, ci morzziata da me andando così. Guarda, guarda, non ce l'ha fatta proprio più. A un certo momento mi ha detto, la piglietta. Signorina, ma non vi siete accorgiuta che un palomo vi ha sporcato sopra il cappello? Un colombo? Eh, me l'hai fatta proprio capire. Uh, guarda, capito? Allora io distrattamento, non ci guarda smerza così, senza molto distratto, con questa mano, apriam il cappello e lo buttai in un cascionetto che stava lì. E allora? Questo parete faceva, io mi girò la parete, che faceva? Signorina, ma perché l'avete buttato quel cappello? Ho dovuto farlo lavare? Ah, certo. Uh. E io dice, no, che me l'importa, ce ne ho tanti di cappello, no, 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 non mi interessa proprio. Ma come? Cioè, questo cappello era un cappello di valore. Ah, eh, eh, e poi? Oh, qua chissà quanto l'avete provato. E io dice, no, no, guarda, sei mai stato l'altro, perché mi stai a caldo. Cioè, no, no, non vi preoccupate, perché io l'avevo pagato solo 200 euro a una vendita, ma che ne tengo tante e tante a casa, che sono morto, morto, me. Cioè, sì.